buongiorno a tutti sono barbara sorgesa da format spia e siamo qui in occasione del ciclo formativo la didattica siamo giunti oramai al penultimo incontro del nostro percorso formativo stiamo affrontando il modulo dei dati aperti abbiamo visto cosa sono dati aperti in termini di forme formate licenze abbiamo visto come arrivare ad una presentazione e preparazione dei data set delle risorse andremo ad affrontare oggi l'importantissimo e fondamentale tema della qualità dei dati la loro analisi finalizzata alla loro opportuna valorizzazione sempre con noi lo vedete andrea burruso buongiorno andrea grazie di essere qui con noi prima di lasciarti la parola semplicemente un paio di informazioni di servizio e cioè che prevediamo verso la metà del nostro incontro una una breve pausa per vostra opportuna organizzazione e le nostre domande possono continuare ad essere poste attraverso lo strumento della chat grazie mille a tutti grazie andrea e ti lascio la parola andrea chiedo scusa c'è difficoltà sull'audio non non ti sentiamo sì e allora e in partenza senza nessuna retorica vi ringrazio per chi fa didattica avere un'aula così ricca è una sfida ma è una gran bella opportunità soprattutto su su questo tema e le ore di oggi probabilmente saranno non dico le più difficili però sono magari un po più tecniche e il tema della qualità è un tema che dipende dai processi dipende da scelte di fondo dipende dalla lunga catena che abbiamo visto che porta alla pubblicazione dei dati ma sicuramente uno degli aspetti in cui probabilmente qualche sbadiglio diciamo potrebbe potrebbe uscire ma proverò diciamo a farne uscire il meno possibile allora ecco una foto di un dato senza qualità nel senso che tra le tantissime cose che hanno a che fare con la definizione di un dato aperto un dato senza qualità che vuol dire n cose ne vedremo alcune diciamo le principali perché stiamo facendo questo corso che è un corso introduttivo che deve essere un corso che spero vi possa portare a propollire alcuni temi a partire da dalle cose che sono riuscito a trasmettervi dei link che trovate in queste slide in quelle che trovate online ma sicuramente qualsiasi mestiere si faccia un dato senza qualità è un dato che vi si presenta davanti come come un muro e delle volte un muro invalicabile cioè delle volte la pulizia la pulizia del dato non si può fare ex post con alcuni casi rari ma sono procedure assolutamente sconsigliate disperate di pulizia da fare successivamente i dati di alta qualità sono un tema sempre più forte perché finalmente sempre di più che si possa fare business con i dati dove quando dico business non sto facendo riferimento al vile denaro sto dicendo semplicemente ovviamente anche al vile denaro ma sto dicendo semplicemente trasformare un'informazione grezza un po' come trasformare della farina e dell'acqua in una torta di gran qualità in una pasta fresca di gran qualità fare business con i dati vuol dire valorizzarli trasformarli in modo tale da fare una cosa che prima senza il vostro contributo senza il tempo e la professionalità le procedure che avete dedicato a questi dati non si sarebbe potuta fare alcuni dati non possono essere interpretati anche se pubblicati online perché magari sono definiti male e quindi vedremo le tantissime esigenze di descrivere un dato è un concetto che mi avete sentito ripetere credo a partire dalla prima lezione in questa purtroppo lo ripeterò ancora di più perché è uno degli elementi chiave dati imprecisi vedremo che questa parola impreciso ha diversi significati diciamo quello più banale dal punto di vista numerico insomma faremo degli esempi i valori mancanti ma sono mancanti perché la macchina che li raccoglieva non ha funzionato quel giorno che la macchina non abbia funzionato è un altro dato che avete pubblicato quindi quando pubblicati quando pubblicate dati raccolti automaticamente insieme al dato grezzo c'è per caso anche un log un file di note che ha a che fare con il funzionamento della della strumentazione discrepanze quindi leggere che ne so che una persona di 200 anni ha votato diciamo che io sappia non esistono persone che hanno visto 200 anni è un esempio scemo ma ma per intenderci la mancanza di documentazione ho insistito spesso su questo tema è un tema quello della documentazione dei dati per cui per chi di voi è all'inizio di questo percorso vi può sembrare un tema noioso anche un tema difficile mi posso aspettare che ehm ci si ponga il problema noi dobbiamo ancora iniziare a fare le i primi passi eh se nei primi passi ci mettiamo anche l'esigenza di documentare anche in maniera minimale vedremo alcuni esempi oggi dati è un grande passo in avanti che vi porta anche a voi degli esiti importanti ehm indietro affinché i dati siano ehm facilmente riutilizzabili quindi affinché ci sia eh una qualità minima una qualità eh non minima una qualità io direi efficace perché senza efficacia diciamo non non state facendo realmente un buon lavoro eh i dati devono essere facili da scoprire ehm alle volte alcuni di noi vengono chiamati civic hacker semplicemente perché troviamo dei dati in piccoli e grandi siti web un po' nascosti in piccoli servizi anche informaticamente molto interessanti ma non documentati non accessibili e noi magari chi di noi sa fare un qualcosa in più con con il codice con i dati eh li scopre e quindi ci sono dei casi di dati di grande interesse ma non facilmente scopribili quindi diciamo banalmente non li trovo né facendo una ricerca online in un grande motore di ricerca né facendo una ricerca dentro il sito dedicato della eh pubblica amministrazione devono essere eh semplici anche da analizzare la la semplicità di analisi chiaramente richiede lato utente un po' di conoscenza di dominio non esistono quando voi sentite dire frasi eh dati per tutti sono frasi un po' tra virgolette propagandistiche nel senso qualche volta sarà scappato pure a me chiaramente eh la cultura del dato è una cultura che deve esistere in maniera un po' bilaterale nel senso che deve esistere dal lato di chi come la pubblica amministrazione ehm pubblica e pubblicherà dati online ma anche eh lato eh lato utente è un elemento importante e devono essere facili da visualizzare facili da visualizzare eh se si lavora bene sulla eh su alcune scelte descrittive qualitative e tecniche eh sarà molto semplice produrre una visualizzazione dei dati l'esempio maledetto dei dati covid è un esempio eh che ehm avete letto anche sicuramente alcune critiche ma sicuramente ha prodotto questa cosiddetta infodemia in cui c'è stato di tutto ma ci sono state anche delle bellissime visualizzazioni non soltanto in Italia ma in tutto il mondo quindi quello è un buon esempio perché comunque dati ehm efficaci in termini di qualità ne sono stati pubblicati in questo settore e io lo citerò spesso ma perché mi fa gioco nel senso che è un caso ehm è un caso semplice. la qualità c'è se il riutilizzatore capisce di cosa parlano quei quei dati e ehm e l'ideale sarebbe che potessero avere i dati nei nei formati di cui hanno bisogno e qui torniamo nella qualità c'è anche il tema di poter interagire e quindi decidere che l'ascolto degli stakeholder sia una scelta di processo. Concetti chiave. E allora partiamo da una cosa che magari molti di voi non hanno probabilmente mai sentito perché ehm i principi FAIR, ora vediamo di cosa di cosa si tratta, sono legati soprattutto al mondo non dei dati aperti ma della scienza aperta. Ehm in realtà sono principi e tra poco vi descrivo molto anche semplici, molto interessanti, li abbiamo citati in qualche modo in maniera indiretta diverse volte che ehm sono citati in tutte le linee guida importanti sui dati aperti e li troverete citati proprio nelle linee guida in consultazione in questo momento io vi invito ancora una volta ehm ad andarle a guardare sia perché sono state anche per me per questi per queste ore passate con voi un riferimento non potevo che partire da lì è un documento aggiornato quindi se io devo fare formazione alla pubblica amministrazione devo partire dal documento che è uscito proprio il la prima giornata che ci siamo incontrati quindi anch'io ho iniziato a leggerle ehm in quel in quel giorno e nelle linee guida open data ehm ultime trovate citati eh i principi FAIR nel capito che parla dei dati della ricerca perché finalmente ehm c'è un focus sui dati aperti sui dati della ricerca eh questo perché a livello europeo è uscito fortissimamente questo questellamento e in qualche modo si dice che giustamente anche quel settore è fortemente coinvolto nella pubblicazione dei dati aperti e si raccomanda ehm di utilizzare quei principi ma c'è una nota la ve la farò vedere a breve in cui si dice l'ideale sarebbe che quei principi però valessero per tutti i dati aperti perché questo e perché rimettiamo all'inizio ehm tanto per cominciare sono eh principi ovviamente citati nella direttiva VUE eh a cui le linee guida prossime venture eh fanno eh riferimento. FAIR è un acronimo dall'inglese la F è per findable cioè trovabile l'abbiamo già detto devono essere facilmente rintracciabili dagli esseri umani io ho fatto l'esempio soltanto degli esseri umani e dalle macchine dalle macchine chi lavora con prodotti software con linguaggi di scripting con programmi di automazione ha bisogno di fare in modo di fare delle query delle interrogazioni le fa fare alle macchine che eh cercheranno tutti quei dati che hanno a che fare con ehm le farmacie eh e devo trovarle eh in maniera diciamo anche automatica la 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 rintracciabilità è garantita dall'utilizzo di eh identificatori persistenti diciamo degli indirizzi web che non cambiano che sono fissi quindi io so che quella cosa quella risorsa la trovo lì e anche domani la troverò lì e si accederà sempre sempre in quel modo sto un po' eh semplificando ovviamente è rintracciabile quindi perché c'è un indirizzo fisso quindi io eh è un po' come un indirizzo di una pizzeria vado lì eh la trovo è descritta sempre come una pizzeria so che è un ehm che ci sono quei tipi di farina eh che c'è quella tradizione regionale e quindi ho quei metadati che mi consentono di trovare quello che io eh cerco e sono registrati in cataloghi o repositori indicizzabili anche della macchina. I dati aperti devono essere descritti in in termini anche di cataloghi dati in qualche modo è un obbligo soprattutto per le pubbliche amministrazioni questo perché ha tantissimi benefici tra cui ovviamente quello proprio minimale è che un catalogo è un indice è un po' come avere un libro però soprattutto un libro tecnico senza né indice iniziale e quindi uno deve impazzire a capire qual è il capitolo che parla di quel tema e senza nemmeno un glossario in qualche modo il findable hack e i cataloghi eh è un po' come avere un indice e un glossario tematico grazie a vocabolari controllati. Accessibile accessibile non pensatelo qui mh con l'accessibilità in termini più larghi ovviamente anche da quel punto eh di vista eh deve avere dei protocolli standard quindi non deve avere barriere tecnologiche per per accedere non robe strane eh un dato aperto che si a cui l'accesso eh è bizzarro dal punto di vista tecnologico non è un vero dato aperto e si raccomanda di ehm non mettere eh processi per esempio di registrazione dell'utente per accedere ai dati eh è fortemente eh non raccomandato diciamo di mettere eh li rendono meno eh accessibili almeno i metadati almeno l'indice dei dati comunque deve essere eh sempre eh disponibile quindi ehm la F di fair è findable la A di fair è accessible eh la I è eh interoperabile interoperable e anche questo probabilmente ne parleremo in tutte e quattro perché nella prossima eh nel prossimo incontro vi mostrerò alcuni esempi faremo una una specie di carrellata del del mondo o dei dati aperti anche in termini di di esiti l'interoperabilità il poter fare in modo che soprattutto eh le macchine ehm si possano parlare tra loro in maniera automatica questa esperienza è un'esperienza che se non avete vissuto direte che vi sto dicendo una cosa che che non vi emoziona probabilmente la prima volta che mh per chi di voi in qualche modo fa un po' eh che va in miniera tra virgolette a lavorare sui dati la prima volta che vedete che a partire da un dataset che aveva dei codici eh riuscite a fare un'interrogazione rispetto a un altro dataset ancora che decodifica automaticamente quei codici la prima volta c'è sinceramente un un bellissimo stupore l'interoperabilità ovviamente molto di più quello è ehm è un esempio ehm infine la R di FAIR eh è che i dati devono essere riutilizzabili eh e quindi ehm ovviamente ehm la licenza è il tema più forte che ha a che fare ancora una volta con ehm la qualità eh questo screenshot è ehm catturato dalle linee guida ehm d'open data eh che sono ancora non ufficiali nel senso non sono ancora operative eh lo saranno tra credo almeno un paio di mesi ehm una delle raccomandazioni eh la tre ove possibile i principi di FAIR questi tre principi che ehm sono di alto livello ma secondo me sono molto interessanti eh devono e dovrebbero essere seguiti e applicati per tutte le tipologie di dati non solo per quelli della ricerca. Un po' di glossario ehm glossari ne trovate tanti io qui voglio semplicemente dire tre parole chiave che ho detto ehm spesso mi piace ripeterlo allora uno nuovo di oggi è identificatore persistente un identificatore persistente è un riferimento unico e duraturo nel tempo per un documento un file una pagina web o qualsiasi altro oggetto digitale eh per chi come noi fa analisi e mette in piedi un processo che ogni settimana eh alle due di notte eh scarica un dato lo trasforma lo ehm lo mette insieme ad altri dati e produce dei grafici automatici e delle mappe eh immaginate quanto sia essenziale che l'identificatore sia persistente che io possa puntare in maniera continua e sicura ai dati ambientali che sono sempre esposti diciamo a quel a quell'indirizzo web poi indirizzo web può voler dire mille cose ma un puntamento univoco e persistente il metadato sono i dati sui dati insomma su questo ne ho parlato veramente troppo e dataset è ehm tendenzialmente un raccoglitore non sono i dati veri e propri ma in qualche modo è un contenitore di dati eh molto spesso anch'io lo faccio eh lo assimiliamo un po' ai dataset quindi mettiamo contenitore e contenuto insieme dal punto di vista teorico è soltanto un ehm contenitore in termini di ehm processo e quindi mh sia nel mondo delle imprese nel mondo della ricerca nel mondo della pubblica amministrazione e mh avete l'esigenza di mettere in piedi una cosiddetta eh una pipeline un flusso ehm che ehm per la qualità dei dati ehm ha ehm corrisponde a almeno diciamo a questo ehm elenco puntato profilare profilare i dati vuol dire un po' fare quell'assessment quel censimento che abbiamo detto nel nello scorso incontro quindi comprendere i dati che avete esplorarli parlare con il titolare del dato se siete il team open data ehm distillare un po' il tema della della bonifica eh la bonifica che si può fare l'abbiamo già detto eh ex post è sconsigliata eh una bonifica che una volta individuate eventuali eh problematiche ehm e fare questa bonifica a monte cambiare il processo che che porta alla pubblicazione dei dati l'arricchimento deriva un po' sia dalla profilazione che dalla distillazione nel senso che ehm una volta che avete capito che quel dato è di interesse lo avete ben descritto ehm l'avete anche pulito insomma esce ehm un prodotto grezzo utilizzabile vi rendete conto che sarebbe utile aggiungere eh dei campi descrittivi che lo arricchiscono e per fare questo magari dovete parlare con un altro ufficio tecnico con un altro ehm titolare di banca dati eh per capire se si possono mettere insieme ehm un certo dataset con con un altro quindi l'arricchimento è eh o descrittivo o proprio in termini di dati da aggiungere al alla banca dati grezza che avete inizialmente la eh documentazione e non ci torno tanto farò degli esempi a breve la validazione è un tema molto molto importante con i dati covid abbiamo avuto degli esempi classici ehm campi in cui c'erano magari erano previsti dei numeri interi ehm c'erano delle stringhe delle date c'erano dei numeri ehm delle date ma erano del futuro e quindi la validazione è un processo che potete creare a monte in base a delle regole di qualità a delle regole semantiche eh e quindi se l'esempio semantico se state eh classificando degli esiti dei dati che hanno a che fare con l'essere maggiorenni eh la validazione semantica è che non ci siano date di nascita che hanno a che fare con eh con minorenni è un esempio molto molto stupido si possono fare esempi sul genere eh si possono fare esempi sulle specie vegetali ehm voi state mappando semanticamente gli alberi monumentali eh di tipo sempreverdi non sono un esperto faccio faccio un esempio si può fare una validazione perché avete il vocabodario controllato di tutte le piante di un certo tipo e fare validazione eh automatica la qualità si vede anche nei modi in cui pubblicate quindi eh nel nel prossimo incontro parleremo soprattutto di pubblicazione eh ci sono degli elementi minimali che sono quelli del mondo cosiddetto a tre stelle eh nella classificazione a stelle dei dati aperti una classificazione di qualità eh nei nel suo massimale quella 5 stelle ne parleremo nel prossimo incontro leggo un attimo la domanda che mi è stata girata ehm ok ehm ha a che fare con la definizione di fair e con la f di findable trovabile eh Andrea Petrucci mi chiede esistono dei motori di ricerca specifici per gli open data o vanno implementati dei crawler dei crawler ad hoc sì esistono dei motori di ricerca uno abbastanza noto utilizzato è quello di google che si chiama google dataset search vi farò vedere una schermata eh tra qualche slide se se non sbaglio ehm chiaramente motori di ricerca eh specializzati sono ovviamente quelli dei portali eh ma a quel punto stiamo parlando di dataset eh pubblicati tramite portali open data perché i portali open data europeo e nazionale indicizzano portali open data non indicizzano diciamo eh siti web che contengono dati eh con qualche eccezione che vedremo oggi quindi eh ad Andrea dico al dottor Petrucci scusatemi non 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 l'informalità al dottor Petrucci dico ehm tendenzialmente se ehm un dato è anche ben descritto in termini di metadati pensate ehm ai siti web ehm quando iniziavamo a pubblicare siti web eh c'era la necessità di definire il titolo del sito le parole chiave i tag la descrizione e questo poi profilava ehm eh grazie a degli standard nell'HTML profilava quei siti dei motori di ricerca anche sui dati ehm esiste la possibilità di eh metadatare la pagina web che contiene anche un failetto ehm pubblicato in quella pagina quindi non un catalogo perché il catalogo di suo c'ha l'indice c'ha i metadati ma voi potete metadatare in maniera interessante anche sfruttando l'HTML e avere come esito eh il fatto di apparire in alcuni motori di ricerca specializzati eh magari ve ne parlo all'inizio del prossimo incontro con un piccolo esempio e vi dico quali sono gli standard da ehm seguire. Andiamo nel concreto. Ehm abbiamo parlato i principi. Come faccio a dare qualità ai miei dati rispetto ad alcuni degli obiettivi di alto livello di cui abbiamo parlato. Ehm nel ehm nei requisiti previsti dalla descrizione in termini di profilo di metadati standard italiano indicata a PIT avete degli obblighi ve li ho citati se non sbaglio nella scorsa nello scorso incontro. Ehm l'invito che vi faccio io quando pensate alla qualità è non pensare soltanto ancora una volta a obblighi e raccomandazione ma ehm di mettervi come sono sicuro in realtà già farete ehm di mettervi una tantum dall'altro lato. Ehm fate finta di non essere l'editore di quel dataset e di scaricarlo accedervi in qualche modo e dire ok adesso voglio su questi dati voglio riuscire a fare un'analisi e capire se manca qualcosa a comprendere come usare quel dato per fare analisi. Questo esercizio è scemo ma secondo me è facilissimo. E' uno degli elementi che potete provare. E' una delle cose che è ovvia dal punto di vista dell'utente. Pensate a voi quando vi sarà capitato di eh lamentarvi di qualche principio informativo assente sui dati del vostro sito di internet banking ma anche sul sito di un'altra pubblica amministrazione della vostra stessa. Sui dati se non c'è una descrizione non ehm è dura. Devo essere un esperto di quel dominio per per lavorare senza la descrizione. Se io mi occupo d'altro senza descrizione è dura. informazione temporale in alcuni dataset non serve tanto ci sono alcuni dati come vi posso dire l'elenco dei beni eh monumentali di una città non è che cambi ogni anno tendenzialmente se è stato ben fatto anche nel duemila diciamo che se parliamo dei beni eh beni culturali quelli sono non ci sono grandissimi grandissime variazioni. Cosa può cambiare negli anni? Il patrimonio informativo, gli orari di accesso, quelli cambiano anche ogni giorno. Allora un conto alla mappatura dal punto di vista come dire eh culturale un conto alla mappatura delle informazioni d'accesso tipo il costo dei biglietti, appunto l'orario, se ci sono barriere per i portatori di handicap e così via. Quindi l'informazione temporale quando è stato raccolto quel dato è fondamentale. La categoria eh di un dataset è un elemento che lo rende findable perché io cerco se voi andate nel portale europeo dei dati aperti trovate migliaia e migliaia di dati eh per filtrare questi dati e trovarli potete filtrare per categoria partire dall'ambiente perché voi cercate da dei ambientali. Si possono taggare, si possono mettere delle etichette, delle parole chiave, non è un obbligo eh queste che trovate in questo questa a cui che trovate una eh un suggerimento quindi eh si possono mettere dei tag in alcuni portali open data li li trovate e vabbè ovviamente il titolo che è che obbligatorio è associare se applicabili delle informazioni spaziali e quindi se i dati hanno a che fare con una singola città si potrebbe mettere uno dei codici ehm uno dei codici che standard nazionali o internazionali che li identificano o in in casi in cui quei dati hanno a che fare con una 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 reale eh mettere un cosiddetto bounding box cioè un rettangolo eh che ehm vi ehm vi dice i limiti in maniera spannometrica ma utile è utile perché poi eh chi sa fare eh interrogazioni di tipo spaziali perché poi ehm è possibile sia nei portali open data quando i dati geografici sono esposti sia ovviamente nei favolosi portali geografici come il repertorio nazionale dei dati territoriali poter fare delle interrogazioni spaziali e quindi dimmi soltanto ciò che è compreso tra la latitudine x e y ehm diciamo y e y dovrei dire e la longitudine x e x quindi anche quello è un un'informazione che rende poi dati trovabili perché io cercherò tutto ciò che ricade nella provincia di Benevento e butto tutto il resto e quindi trovo quei dati altrimenti più difficili da ehm trovare questa è una cosa un po' più tecnica la trovate questo uno screenshot da una bellissima guida europea che citerò spesso oggi che è citata nelle linee guida ehm nazionali in consultazione in consultazione ehm cos'è il valore nullo diciamo è la cella vuota chiaramente la cella vuota perché è vuota quello bisognerebbe pure eh diciamo descriverlo nei dati quando un utente trova una cella vuota è perché lo strumento non ha funzionato ehm perché a quel tipo di record non è associabile un valore e se sì perché ehm è consigliato eh in qualche modo esplicitare ehm quelle celle che ehm che sono ehm intrinsecamente nulle o comunque trattarle in maniera uniforme quindi se sono nulle lasciarle ad esempio tutte vuote quello che alle volte capita in alcuni dataset che vediamo pubblicati online è che ci sono per alcuni dataset magari troviamo scritto ehm null o n a o n a n e nello stesso portale altri dataset magari hanno le celle vuote ehm un problema ehm è che siccome i dati hanno valore quando sono messi insieme difficilmente lavoriamo con un unico dataset utilizzare eh modalità diverse per descrivere un dato che è nullo un dato non rappresentabile diciamo eh non rappresentato eh questo è un problema quindi si consiglia questo è un consiglio una raccomandazione trovate una modalità che sia una quando eh pubblicate valori che sono eh nulli accessibile quindi il download non deve prevedere la registrazione eh eh delle e degli utenti eh e i file non devono essere ovviamente criptati diciamo eh questa nota è bacchettona ehm credo soltanto una volta in dieci anni mi è capitato di eh scaricare un file diciamo pendata che era criptato ma era ehm banale errore nella catena di pubblicazione abbiamo scritto responsabile dati eh l'indomani erano pubblicati senza criptazione quindi niente è veramente raro diciamo una nota bacchettona ma è un esempio didattico ehm rendere i dati accessibili tramite un url li rende appunto accessibili non date questa cosa per scontata perché sono sicuro che questa cosa dite ma che ci dice Borruso è ovvio eh uno fa click e si scarica no ehm nel portale dati nazionale non vi faccio l'esempio perché non me lo ricordo eh ma trovate correlati a dei dataset non l'url che poi vi fa cedere ai dati ma in qualche modo un indirizzo che vi fa arrivare a un altro sito della pubblica amministrazione in cui dovete di nuovo cercare e scaricare i dati non ci devono essere ponti non ci devono essere passaggi diciamo il dato deve essere accessibile in maniera eh in maniera diretta altrimenti questo lo rende eh meno accessibile e chiaramente questo invece quest'ultimo punto che è bacchettone ma questo è molto ehm molto frequente e questo è facilmente controllabile cioè se voi parlate con il vostro ehm ufficio informativo col che si occupa della pubblicazione eh di tutto ciò che è un po' la parte internet eh dei vostri flussi informativi si può si può richiedere di ehm pensare delle verifiche automatiche di indirizzo raggiungibile ehm questo perché un catalogo open data molto spesso pubblica dati da decine di fonti dall'assessorato Y dall'assessorato Z dal comune A dal comune B e dall'ufficio C eccetera eccetera e visto che i dati provengono da diverse fonti hanno alle volte delle modalità completamente diverse di cottura del dato la produzione del dato a flussi tecnologici informativi completamente diversi può capitare che quel dato aperto che deriva dal sistema informativo territoriale regionale eh non sia più accessibile l'URL perché il sistema informativo ha un problema tecnico e eh per ventiquattro ore eh se uno punta ai limiti comunali pubblicati in quel in quel dataset c'ha l'errore 404 il codice di pagina non raggiungibile e allora cosa si può fare si può mettere una verifica a monte che ogni ora ogni giorno verifica in generale se i puntamenti del catalogo dati sono accessibili un catalogo dati è comodo proprio per questo perché non soltanto il vostro catalogo sarà indicizzato dal portale nazionale ma voi stessi avete quel catalogo e quindi avete l'elenco delle decine di indirizzi web che rendono quella risorsa accessibile quindi potete fare voi stessi un'analisi di eh puntamento a a quella risorsa a maggior forza se in qualche modo il dato nel catalogo deriva da una fonte che è più esterna e quindi avete fatto anche voi nel vostro catalogo una sorta di harvesting e quindi deve essere accessibile e raggiungibile da eh da una chiamata web l'interoperabilità esempio molto concreto questo è un esempio in cui noi che lavoriamo con i dati sbattiamo sempre non c'è non c'è una volta non è colpa di nessuno non lo sto dicendo per dire per maledire tra virgolette qualcuno è un tema teorico diciamo su cui ci sono delle operazioni da fare ed è metterci attenzione le date se io leggo 1 0 1 0 2 2020 con lo slash voi direte vabbè è primo febbraio 2020 perché noi in Italia siamo diciamo ehm tendenzialmente quando scriviamo quella data in Italia si intende che la prima cifra è il giorno la seconda è il mese e la terza è la data noi che pubblichiamo dati eh non possiamo pensare eh che stiamo pubblicando i dati soltanto per l'Italia decine e decine di volte i nostri dati saranno utilizzati da enti internazionali che non parlano nemmeno la nostra lingua eh la data in qualche modo è internazionale nel senso che ehm è molto più facile capirsi sulle date per tutti esiste il primo febbraio 2020 ehm però le modalità di di scriverlo in una cella ehm in termini eh sono come dire ehm locali cioè possono variare in base al luogo del mondo per fortuna esistono degli standard quindi va bene eh gli inglesi utilizzano eh ci fa antipatia questa cosa utilizzano eh mese giorno anno e non giorno mese anno anche gli americani e noi e noi siamo più bravi col nostro eh ma per risolvere tutto questo esiste lo standard ISO 8601 che prevede una modalità un po' bacchettona che voi trovate mh comunque per fortuna molto spesso nei dati e in tutto ciò che è pubblicazione di eh materiale informativo eh che è quello di mettere anno quattro cifre mese due cifre giorno due cifre e se ci sono gli orari ora due cifre minuti due cifre secondi due cifre quindi eh ho enfatizzato il due cifre perché evitate di scrivere febbraio come due ma sempre sempre zero due eh per fortuna tutto questo nella grande parte dei casi è così a monte chi di voi pubblicherà dati da banche dati importanti tutte le banche dati importanti diventano pazze se hanno date che non siano standard e quindi se io in oracle in postgre in microsoft SQL server ho definito un campo data eh sia in entrata che in uscita si pensa eh in modo standard e comunque ehm se l'uscita dei dati non dovesse uscire standard avete garanzia al cento per cento che con una piccola eh query otterrete i dati nel formato standard tenete conto che c'è una complicazione in più sui numeri faccio l'esempio più brutto di tutti l'esempio 0102 potrebbe essere anche 0102 20 o anche che ne so 0102 12 e sto 12 che cos'è è 2012 ovviamente pensando all'italiana sì perché uno diceva bella il terzo numero quindi occhio questo eh è un problemone facilmente risolvibile e l'altro problemone quindi secondo me sono due i più grossi sull'interoperabilità legata ai valori scritti nelle celle una è quello delle date e l'altro è quello dei numeri e ancora una volta perché ehm esistono delle modalità di rappresentazione quindi ripeto sottolineo rappresentazione cioè quello che io vedo in qualche modo a schermo ehm che possono cambiare da paese a paese e quindi eh noi italiani abbiamo come separatore delle migliaia il il punto eh nel mondo anglosassone ehm è la virgola perché loro utilizzano il punto come separatore dei decimali eh il separatore delle migliaia in realtà è un carattere è una cosa che serve a noi soprattutto per numeri un po' più lunghi perché finché sono le migliaia si intuisce che ci sono come dire tre valori appena iniziano a diventare milioni e miliardi è comodo per l'uomo capire i blocchetti e quindi capire quanto è grande qual è l'ordine di grandezza di quel numero che è difficilmente visibile ma un conto è la rappresentazione e quindi io posso scegliere nel mio foglio elettronico di scrivere dentro quella cella 3000 con 3000 e chiedergli però di farmelo vedere quindi formato eh quel valore con un separatore adatto alla mia modalità locale di rappresentare le migliaia il consiglio importante è occhio quando esportate online questo purtroppo eh c'ha diverse evidenze anche in alcuni portali open data in alcuni dati pubblicati nei nostri portali open data e non solo dei nostri in tutto il mondo in cui il separatore delle migliaia eh è scritto come valore grezzo eh non ci vuole niente a dire a un computer o di rimuoverlo quindi anche io poi scarico il dato so come lavorare poi quel dato non è un gran problema ma se ci sono decine di colonne il mio occhio vede che ci sono altri problemi mi rendo conto tutti i dati da correggere ancora una volta e se mescolo dati italiani con dati inglesi li faccio la correzione di non la faccio quindi le soluzioni ci sono però l'introperabilità eh pensiamolo un po' a monte ed evitiamo quello sforzo eh quello sforzo in più sono raccomandazioni che trovate in tutte le linee guida sulla qualità dei dati anche non aperti sono raccomandazioni di natura generale utilizzato una codifica standard dei caratteri anche questo l'ho già citato non potevo citarlo però nell'incontro eh legato alla qualità eh la raccomandazione è quella di utilizzare una codifica dei caratteri la codifica dei caratteri ve l'ho detto è un po' come dire quali caratteri ho a disposizione per ehm scrivere valori dentro le celle dentro il mio database eh immaginate di avere la tastiera che avete davanti al computer in questo momento di tirarle fuori tutte diciamo quello è più o meno il il set dei caratteri allora se eh chi di voi diciamo una tastiera per esempio ehm inglese alle volte alcuni di noi hanno le macchine mappate eh inglese o Stati Uniti non troveremo i caratteri accentati per esempio eh i caratteri sono molto di più diciamo di quelli eh classicamente eh dei nostri dei nostri testi il consiglio è di utilizzare una codifica standard eh in modo tale da avere un set ricco eh eh molto utilizzato che è l'utf8 se non utilizzate questa codifica dei caratteri eh ebbene o inserirlo nella descrizione del dataset o addirittura nei metadati in modo tale che eh il personal computer il vostro codice può automaticamente automaticamente estrarre e leggere quell'informazione questa schermata è un po' sgranata eh nel nell'esempio eh ho sbagliato scusate nell'esempio che eh trovate ehm qui in alto è tratto sempre dal volume da cui ho preso ispirazione per questa parte di slide trovate quei caratteri leggibili che sarà capito da tutti soprattutto quando provate ad aprire con Excel faccio l'esempio proprio molto concreto citando eh vi arriva un file da un collega avete scaricato voi dati da da un portale aperto o non è mh qualcosa qualcosa non va è la codifica dei caratteri che o voi non avete impostato correttamente perché eh non la sapevate o perché chi ha buttato fuori quei dati ha fatto diciamo un po' di confusione e li ha portati online con una codifica non adeguata come erano stati in realtà eh raccolti ehm nella riusabilità dei dati eh in termini di eh qualità anche qui siamo eh in questa nota in un caso molto diffuso a cosa faccio riferimento il consiglio che vi do qui non ve lo do io ripeto una raccomandazione internazionale è quello di pubblicare un una quantità adeguata di dati adeguato in questo contesto può voler quantità adeguata in questo contesto può voler dire eh mille cose però faccio subito un esempio diciamo in negativo eh ci sono alcuni portali italiani ma ripeto ancora una volta alcuni portali open data che le volte pubblicano dataset e risorse anzi diciamo risorse quindi diciamo dati da 5 righe 6 righe in molti casi queste 6 righe ma sono utili è chiaro alcuni casi di dati sono espressi e auto come dire autoconsistenti per pochi record perché quel fenomeno si descrive con pochi record in tantissimi casi nella stragrande parte dei casi quando ci sono pochi record quei dati non hanno un gran un gran valore alle volte sono dati separati in blocchetti che non ha senso separati in blocchetti ma come vi dicevo in un'altra raccomandazione nello scorso webinar metteteli in bulk cioè in blocco metteteli tutti insieme se sono la stessa cosa ovviamente nei limiti eh delle dei vostri servizi se diventano big data dovete avere delle modalità di pubblicazione adeguate a dati così grandi però il caso di big data è un caso un po' più raro ci iniziano a essere nella gran parte dei casi sono filetti piccoli che si possono mettere insieme ma eh chiaramente ehm pubblicate quei dati che rappresentano la popolazione interamente dove la popolazione eh lo intendo dal punto di vista statistico cioè se voi dovete descrivere ehm tutte le scuole eh di una città eh non ha senso che ci siano soltanto eh i licei eh magari di un solo quartiere e magari non avete messo le scuole eh private quindi diciamo anche in termini di popolazione attenzione alla quantità eh adeguata eh di dati e poi l'esempio ambientale quello che vi faccio spesso la quantità adeguata se io ho l'inquinamento atmosferico non posso pubblicare un dato al mese sono fenomeni che hanno una continuità ehm diciamo in realtà non hanno mai soluzioni di continuità sono veramente eh come dire continui devo pubblicare una quantità adeguata a quel fenomeno eh e quindi in modo tale che poi l'utente ci possa fare su quei dati eh delle corrette analisi e valutazioni. Tenere conto degli standard sui dati è un'altra cosa che alle volte anche noi tecnici non facciamo pienamente. Ehm cosa voglio dire standard sui dati? Se voi raccogliete dati sul clima, sulle previsioni meteo, sull'astrofisica, sui dati statistici, la scelta eh dei come dire delle colonne e di cosa ci deve essere scritto sulle colonne potete non potete non farla voi perché se si descrive, se si descrivono certi fenomeni esistono degli standard descrittivi che vi definiscono un po' tutto eh le modalità con cui eh quel fenomeno dovrà essere eh eh descritto. Ehm zoomo scusate un attimo che lo preferisco così se se c'è un problema ehm se c'è un problema di visualizzazione ditemelo in chat. Ehm la raccomandazione sugli standard sui dati è ancora una volta una raccomandazione molto importante che trovate in tutte le linee guida e la trovate sia in quelle vecchie italiane che in quelle in consultazione e lì c'è ehm uno dei link. Uno trovate anche nelle linee guida eh degli esempi di standard sui dati, no? E quindi per esempio il mitico progetto Inspire, chi di voi si occupa dei dati spaziali sa quanto tempo ha dovuto dedicare a descrivere tutti i dati spaziali con una classificazione in termini di nomi, di descrizioni, di vincoli su come si descrivono gli oggetti cartografici eh che ha fatto impazzire all'inizio tutti quelli che ci hanno dovuto lavorare ma che oggi eh hanno consentito di avere dei portali internazionali che descrivono un fenomeno territoriali tutti nello stesso modo e io posso eh con leggerezza e con efficacia incrociare eh dati territoriali descritti secondo uno standard eh così come in Sicilia eh così come in Lussemburgo così come in Francia ovviamente in tutti quelli che ehm come dire rispettano la questo questo standard. Un altro standard italiano eh in questo caso molto bello molto molto interessante è quello di Ontopia e basta che cercate sul web Ontopia Agid eh che sono un po' ehm tutti gli standard descrittivi ehm su ehm alcuni eh settori informativi quindi per definire per esempio i luoghi eh del nostro territorio per definire ad esempio le professioni eh trovate delle modalità eh già codificate in termini di codici, in termini di descrizione, in termini di schema dati eh è molto molto utile ancora una volta questo vi garantisce interoperabilità ehm è la possibilità dell'utente di ehm leggere quei dati senza dubbi perché i dati sono descritti secondo eh delle codifiche standard ehm alcuni esempi scemi ma che noi poi noi che lavoriamo sui dati facciamo sempre come come verifica il controllo di righe duplicate ehm dovrebbe essere un controllo fatto a monte e nella gran parte dei casi eh è un controllo che che esiste da utente vi dico però delle volte capita e quindi occhio mettetela nella pipeline di ehm controllo nelle informazioni che sono pubblicate nei portali open data eh se andate a leggere i metadati eh tramite le API quindi interrogate eh un portale open data e gli chiedete di fornirvi il file json il file che descrive ehm il catalogo l'indice dei dati un'informazione molto utile è quella delle dimensioni in byte questo può essere utile soprattutto in quei casi in cui state costruendo un processo di analisi in cui sono coinvolti tanti dati e magari di grandi dimensioni quindi comunque prima di partire con questi lavori magari poter avere uno spaccato delle dimensioni del tipo di oggetto ehm vi potrà fare pianificare ehm l'utilizzo dello strumento più adeguato perché leggendo nel catalogo che dovrete elaborare eh miliardi di record ehm dovrete dovrete utilizzare strumenti adeguati a quel numero di record e quindi è utile per chiunque per i ricercatori per le aziende avere questa informazione quindi eh fornire per fortuna nella gran parte dei casi è totalmente automatico. Formato CSV ehm è un formato che vi ho citato diverse volte e c'ha pure un po' di difetti eh però non si può eh come dire non gli si può dedicare un po' di tempo in più rispetto agli altri perché comunque al momento eh è lo standard eh in realtà non è uno standard comunque diciamo è il formato eh al momento più 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 diffuso e nelle banche dati ho pensato a un foglio elettronico in un foglio elettronico avete avete la possibilità di avere n fogli eh e quindi voi avete che ne so un file excel con eh un foglio per ogni provincia italiana quindi avete centodieci fogli se pubblicate il file xls si pubblica un solo file non è un formato raccomandato eh questo suggerimento un suggerimento anche questo un po' bacchettone ma essenziale il file csv prevede che ogni singolo file sia un contenitore a sé stante quindi se non mettete le province una sopra l'altra che ovviamente la soluzione consigliata in questo caso occhio separate eh un file csv descrive quella popolazione popolazione in termini statistico quel quel gruppo di oggetti che state eh pubblicando e qui è un esempio di file csv ehm in realtà questo non è un csv ma diciamo ehm questo potrebbe essere salvato come csv capita raramente ma capita e ci sono un paio di elementi un paio più di un paio di elementi di qualità da verificare anche qui chi fa chi fa già oggi bene il mestiere di pubblicare dati ehm potrebbe dirmi borruso ma questo è follia e ancora non tanto ancora queste cose qualche volta si trovano magari un po meno nei portali open data ma qualche volta in qualche sezione nei siti della pubblica amministrazione in cui si dice ehm pubblichiamo qui i dati aperti e troviamo eh file eh csv che hanno due tre righe di intestazione ehm troviamo celle vuote e righe vuote eh troviamo righe con delle note eh tutto questo non può esistere in un csv in un csv c'è una sola riga di intestazione potrebbe anche non esserci non è obbligatorio ma è fortemente consigliata che ci sia almeno una righe di intestazione con i nomi delle colonne che sia soltanto una e non inserite altro che non siano dati le descrizioni i metadati eh i file di documentazione mettetevi se volete nello stesso dataset il dataset come vi dicevo è un raccoglitore voi potreste mettere dati grezzi in formato csv in un dataset insieme a un pdf se volete che descrive quei dati quindi un oggetto pensato per essere letto dall'uomo perché voi volete eh arricchire eh quell'informazione pubblicando il lavoro di ricerca scientifica che è stato fatto per pubblicare quei dati quindi dataset non vi ho fatto mai l'esempio è un contenitore che potrebbe avere in quel contenitore anche dei file che non hanno a che fare con i dati aperti ma che servono a descriverlo ad arricchirlo dal punto di vista ehm informativo e ovviamente l'inserimento del intestazione di colonna eh prendetelo come fatto eh diciamo ovvio non è un requisito nel senso che il csv potrebbe secondo eh la sua descrizione eh non avere l'intestazione però inserite altrimenti diventa veramente difficile o comunque se non le inserite da qualche parte inserite un failetto che descrive che la prima colonna ci sono gli indirizzi la seconda i numeri di telefono la terza i nomi eccetera eccetera e ehm assicuratevi che eh tutte le righe abbiano lo stesso numero di colonne mi è capitato di scaricare eh dei dati in cui la riga 3 e la riga 4 per qualche motivo avevano eh quattro colonne e la riga 5 e la riga 6 ne avevano 7 raro perché se pubblicate dati a partire da un sistema informativi da banche dati questo è impossibile che avvenga eh qualche volta avviene in processi un po' manuali di salva con nome da sistemi da piccoli client eh a volte a volte può avvenire eh questa è una procedura che potete mettere a monte sto per andare eh in pausa e identificate le unità di misura eh in modo eh facilmente eh elaborabili perché noi mettiamo molto spesso numeri nei data set aperti nei dati in generale abbiamo numeri il numero rappresenta eh una grandezza eh ma il numero se io scrivo 16g per dire 16 grammi eh per il computer quella cella non è più un numero quella cella diventa una stringa e quindi il computer non riuscirà a fare la media tra la cella in cui c'è scritto 16g e la cella in cui c'è scritto 32g eh e allora in linea di massima nei numeri soltanto numeri l'unità di misura o la inserite in termini di metadati quindi in un file accessorio che dice che la colonna quantità contiene valori in grammi o in un'altra colonna inserite unità di misura alle volte caso molto raro potrebbe essere unità di misura variabile e ovviamente è ehm da eh indicare e questo che vedete qui eh che vi può sembrare una follia da mal di pancia in realtà è un piccolo esempio che va che porta in qualche modo il csv verso quasi il mondo dei dei link ed open data ovvero è un consiglio che dice se potete o in termini di metadati nel file che descrive quella tabella o addirittura come valore scritto nel nella colonna dell'unità di misura inserite un riferimento a uno standard che descrive quell'unità di misura ovviamente le unità di misura sono tra quelle cose più standard di tutti ci ricordiamo tutti quando alle scuole già alle scuole elementari ci veniva raccontato che cos'è il metro eh tutti tutti i standard di misura sono definiti in maniera internazionale e sono definiti secondo delle delle specifiche il consiglio è in caso di questo tipo utilizzate le specifiche questo rende i dati fortissimamente interoperabili vado descrivo questa slide e poi andiamo in pausa ehm qua si legge si legge poco diciamo ve lo descrivo io questo file xml è il file descrittivo standard del grammo quindi l'unità di misura grammo e c'è una descrizione ma la cosa bella è che c'è anche ehm la la sigla in tutte le lingue nella gran parte dei casi eh le sigle delle unità di misura sono abbastanza uniformi eh in tutti i luoghi del mondo non è sempre così ci sono anche ovviamente problemi di caratteri delle lingue qual è la cosa bella che se io lo definisco come standard poi l'utente della Thailandia sa che sono grammi e poi potrà scegliere di incrociare quei dati con i miei perché stiamo utilizzando uno standard descrittivo che lui ha compreso eh da subito e quando poi va online l'utente della Thailandia che dovrà fare il grafico e la mappa e dovrà scrivere l'etichetta grammo nella sua lingua la lingua è descritta anche in termini di ehm standard descrittivo quindi potrà automatizzare anche la parte di visualizzazione a partire da un dato che era italiano che era codificato secondo uno standard e che riuscirà a etichettare in maniera automatica secondo le sue impostazioni locali. Andrei in pausa eh tre minuti eh continuiamo su questi punti. Grazie mille Andrea Vai. E allora ehm sul CSV ci sarebbero tante altre altre cose da dire ma insomma il tempo stringe va davanti. Allora ehm XML è un altro formato open in cui è possibile pubblicare eh è un formato molto più standardizzabile è molto più standard molto molto più ricco e è per esempio in un XML trovate eh potete inserire e dovreste inserire la famosa codifica di caratteri in un CSV non si può scrivere dentro o si può scrivere ma non avrebbe particolarmente senso cioè fare la colonna encoding non ha non ha senso in un CSV dovuto da scriverlo o nei metadati o in un altro file in un XML che è un file molto ricco che può che può contenere internamente dati e metadati insieme e l'encoding è presente quindi ehm documentate che tipo di versione di XML è stata utilizzando eh è ad esempio la codifica ci può essere ovviamente molto 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 di più questa invece è una vabbè è un consiglio veramente bacchettone si dovrebbe dare per scontato cioè negli XML i caratteri speciali come la e commerciale il maggiore il minore eh il singolo apice eh le doppie virgolette vanno scritte eh facendone l'SK ovvero mh scrivendoli in modo tale che ehm le macchine le possono interpretare eh correttamente eh correttamente quindi questo è un fatto un po' più tecnico ma molto semplice anche questo tendenzialmente totalmente automatizzabile ehm in un file XML a differenza di un CSV ci può essere una struttura gerarchica molto ricca e molto complessa questo è un esempio facile facile e mettere eh in una struttura ehm come dire ben fatta eh attributi ed elementi eh e quindi in questo esempio a video è un esempio che catalogo la frutta e la provenienza eh usare correttamente gli oggetti che sono attributi e gli oggetti che sono elementi di un file eh XML ehm nel JSON eh che è un altro dei formati molto diffusi ormai per pubblicare dati aperti avete una cosa che per esempio non c'è ancora una volta nei file CSV salvo non descriverlo da un'altra parte avete la possibilità di eh avere dei tipi di campo ehm sono pochi ma ci sono quindi avete ehm i campi in cui inserire string valori nulli e definirli come nulli valori booleani i booleani come dire sono i veri vero falso il sì no in qualche modo lo 0 1 eh avete i campi che sono numerici ehm avete liste di valori quindi immaginate di avere un campo dove potete ehm listare ehm alto medio basso e questo può essere un elenco controllato e questo è molto utile o potete addirittura inserire oggetti ovvero in qualche modo diciamo semplifico un po' una tabella dentro una un'altra tabella perché il file JSON così come l'XML è un file gerarchico ricco mentre un CSV è una tabellina e deve parlare con altre tabelline sono separate un file JSON un file XML possono essere contenitori multitabella con gerarchie anche complesse poter avere un controllo sul tipo di campo vi consente di fare controlli automatici sia in entrata che in uscita nel JSON questo in uscita ovviamente interessante vocabolari controllati eh ci abbiamo già fatto cenno parlando di utilizzare per definire ehm dei tipi di dati utilizzare degli degli standard i vocabolari controllati ehm descrivono identificano e organizzano e organizzano i concetti senza ambiguità in una determinata area di competenza e possono essere utilizzati per armonizzare o aumentare arricchire eh i dati ogni concetto così come l'esempio del grammo l'unità di misura grammo eh citato in precedenza è identificato da un identificatore diciamo da un indirizzo eh web si dice in termini tecnici tecnico da da un URI e che consente a qualsiasi sistema quindi da un pc a un codice a me di eh farvi riferimento senza ambiguità quindi eh l'abbiamo detto prima quasi un identificatore persistente e così come nel nella slide precedente vi facevo vedere ehm esempi di standard per definire i dati questi sono invece esempi di vocabolari diciamo quindi di elenchi di concetti che definiscono in maniera eh netta eh definita comprensibile da tutti eh quindi vocabolari ehm di settore di alcuni eh ce n'è di tutti i tipi eh sul sito europeo dedicato eh è molto molto carino è molto bello andare in quello europeo perché più appunto è internazionale eh ad esempio eh in questa slide trovate eh la definizione delle unità territoriale amministrative nei dati aperti nei dati in generale eh una classificazione tipica è quella territoriale e cosa gli scrivo? L'ho già fatto questo esempio. Cefalù, il codice Istat, un codice internazionale se esiste in modo tale che eh perché Istat magari lo capiamo tutti in Italia siamo sicuri che il codice Istat se non descritto nei metadati sia comprensibile dall'utente ehm della Germania. Allora esistono codifiche internazionali che a volte potremmo utilizzare, alle volte no, dobbiamo dobbiamo studiarci queste cose. Ovviamente le unità di misura sono un'altra delle codifiche eh tipiche. Eh quella che qui trovate l'ho fatta apposta eh perché un esempio didattico forte è eh proprio l'elenco dei vocabolari controllati eh dell'unità di misura e quindi abbiamo il centimetro, il joule, il chilometro, eh il litro, il metro quadrato, ok? Eh è ovvio che ci sia un elenco controllato di unità ehm di misura e questo è invece l'esempio che vi facevo prima dell'utente della Thailandia. Eh una codifica che viene da un vocabolario ehm per fortuna risolve anche il problema poi eh a valle cioè la pubblicazione di qualcosa di leggibile dalle persone. E allora eh trovate eh la l'etichetta delle unità di misura metro diciamo in tutte le lingue del mondo perché magari qualche lingua mancherà ma insomma in decine eh di lingue anche espresse in caratteri che per noi sono totalmente incomprensibili come eh che ne so il primo eh che trovate in questo in questo elenco. Ehm non usare etichette ma appunto dove possibile degli indirizzi perché ehm ad esempio la l'etichetta FI per rappresentare la lo stato Finlandia è uno standard nel nel senso che eh uno delle cose con cui vi dicevo le unità territoriali sono definite secondo standard la Finlandia nella ehm definizione ehm a due caratteri è ehm classificata come FI eh l'ideale ehm in una maturità piena piena di qualità dei dati aperti è quella di utilizzare addirittura non la l'etichetta ma il l'url che porta alla sua definizione. Ehm utilizzare identificatori consente di linkare e quindi di collegare tra loro e aumentare i dati eh perché io posso avere della roba che ha a che fare con un prodotto cosmetico perché sto pubblicando dati aperti su una certa analisi che ha a che fare con l'impatto che magari ha un prodotto cosmetico dal punto di vista economico dal punto di vista della salute delle persone. Nella se utilizzo una definizione standard perché anche i prodotti cosmetici sono definiti per esempio secondo degli standard e io ho soltanto la polonna con il codice. La cosa bella è che essendo definito in maniera standard un utente che scarica i miei dati avendo la codifica standard potrà arricchire moltissimo quel dato perché nella codifica standard non soltanto trovate l'esempio di come si chiama quel prodotto in n lingue ma trovate per esempio tutti i componenti chimici. Io non posso mettere nella mia banca dati 550 colonne no? Però se l'ho codificato in maniera standard posso delegare a un arricchimento che viene da un link con un data set esterno ulteriori informazioni utili alla ricerca che uno specialista piuttosto che un altro farà rispetto a quel dato. E questo vabbè prendetela come... che succede? chi è che muove? Scusate un secondo... ok... ok... prendete questa schermata come un esempio ovvero solo per farvi vedere che rispetto a un componente di natura cosmetica c'è tutta la parte chimica tutta la parte descrittiva e quindi voi avete consentito mettendo una descrizione standard la possibilità a uno specialista di arricchirlo in maniera semiautomatica perché appunto questo è un vantaggio poi potenziale dei linked open data. Documentare la struttura dei dati è un elemento di qualità e ne abbiamo parlato tantissime volte questo esempio lo sto facendo adesso lo farò anche alla fine di questo incontro con voi questa è una descrizione leggibile da noi, lo stiamo leggendo a schermo quindi sono sempre i dati covid pubblicati dalla protezione civile e adesso in realtà pubblicati dal ministro della salute perché è finita l'emergenza e quindi molto comodo io descrivo la struttura dei dati questa è una cosa che si fa purtroppo raramente nella consultazione delle linee guida in atto in questo momento una proposta che farò personalmente io è proprio quella di stimolare anche in termini di pratica il quanto sia essenziale anche descrivere la struttura dei dati chiaramente le linee guida ne accennano a questo elemento io vorrei che fosse un fatto un po' più forte dal punto di vista pratico e concreto. la struttura dei dati si può descrivere in quel modo lì che avete visto che era pensato per essere letto a schermo quindi lo leggo io e lo capisco oppure può essere descritto in maniera da essere letto automaticamente da una macchina e ad esempio un csv che è fatto da tre campi il campo nome il campo dipartimento e il campo ritirato per dire se quell'utente si è ritirato da quel dipartimento non ci lavora più io non solo definisco è un esempio definisco tre proprietà definisco il nome che in un csv magari è l'etichetta che è trovata nella colonna e quindi in qualche modo questo c'è in un csv definisco il tipo che non c'è nel csv e quindi se è una stringa o se è un booleano vero o falso metto una descrizione perché delle volte il nome del campo da solo non è totalmente autoesplicativo quindi nome tipo descrizione e se voglio potrei mettere anche dei requisiti delle regole per validare quel campo ovvero in questo esempio nel campo dipartimento utilizzo un cosiddetto pattern cioè ci può andare soltanto una lettera maiuscola dalla A alla Z scritta da 1 a 4 volte quindi ci può essere scritto A, ci può essere scritto ABC ma non ci può essere scritto un ciccio bello perché soltanto in questo esempio definito con quello che si chiama espressioni irregolari non ci possono essere più di 4 caratteri questa definizione consente sia a chi pubblica il dato di fare validazione sia a chi lo riceve di mapparlo correttamente il linguaggio JSON si presta anche grazie a uno standard a descrittivo che esiste a definire la struttura dei dati in maniera robusta ripeto è standard soprattutto si chiama JSON schema la modalità per descrivere la struttura di una banca dati in formato JSON e come vedete è un po' simile a quello che abbiamo visto prima c'è il tipo di campo e in questo caso c'è un minimo e massimo come vincolo da rispettare che qui in questo esempio scemo è fatto da zero abbiamo qualche problema con la connessione un po' di cos'è un JSON di come è fatto una struttura ok proviamo a vedere se ci sono qualche problema se interrompe video e audio proviamo di nuovo e altrimenti vediamo se è risolta così Andrea vediamo nel caso ti interrompo di nuovo ok 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 grazie mille mi scuso non so cosa stia succedendo perché ripeto sto usando la connessione che ho utilizzato anche le altre volte ma comunque definire una politica di rilascio ha a che fare con la qualità dei dati e ad esempio cosa vuol dire la politica di rilascio cosa costituisce un cambiamento dati quando devo aggiornare quei dati quando ci sono dieci record in più quando un valore di una colonna cambia quindi dipende dal dato che sto pubblicando devo parlarne con l'esperto di quel dato e quindi definisco che tutte le volte che c'è un certo tipo di cambiamento io devo ripubblicarlo perché altrimenti perde valore se faccio una nuova versione dei dati quindi aggiorno quei dati è un cambiamento importante ovvero ho aggiunto delle colonne che è un cambiamento importante o ho aggiunto due record a un milione di record questa cosa cambia la posso scegliere come criterio di politica di rilascio e la devo valutare anche in base all'utilizzo che ne farà l'utente finale i cambiamenti non sono soltanto appunto quelli legati al tempo ma sono anche quelli legati alla struttura legati allo schema legati anche al significato ha significato perché alle volte cambiando ad esempio le norme possono cambiare anche i codici per classificare un oggetto ma possono anche cambiare i limiti ovvero io definisco inquinamento alto prima rispetto a un range di valori col cambiamento legge nella colonna ci sarà sempre il valore di piombo ma prima quello che io definivo alto andava da un range a un altro e adesso è un'altra ancora quindi la politica di rilascio alle volte dipende anche da elementi normativi rispetto a un certo settore se cambia se ha un impatto sui miei dati io definirò una politica di rilascio che mi costringe a rilasciare quel dato perché c'è stata anche una modifica normativa che ha un impatto sul valore di quei dati l'ideale per esempio la protezione civile sui dati covid ha cambiato molto spesso lo schema dati e hanno inserito un file dedicato che si chiama change log ovvero un file che vi stampa vi racconta il log delle variazioni quindi l'andamento delle variazioni dello schema dati ed è una cosa che potreste voi inserire nel dataset e quindi se data una grossa variazione quindi lo schema dati soprattutto ha un impatto sui vostri dati ed è bene tenerne traccia e dire fino al 2020 c'erano 5 colonne adesso ce ne sono altre due che sono fatte in questo modo ed è così dal 1 febbraio 2021 2021 questo scusate è un esempio proprio della protezione civile che vi dice ad esempio che sono stati corretti aggiornati la parola bonifica dei codici NUTS che descrivono sono codici territoriali per descrivere il territorio per descrivere le ragioni in questo caso è stata aggiunta un file di documentazione e poi non ve li leggo tutti insomma questo è un classico file di changelog da allegare è consigliato non è obbligatorio ma è molto consigliato soprattutto per i cambi importanti la qualità dei dati esiste anche in termini di standard il documento di riferimento è quello che trovate qui nella nella slide è un documento molto ricco molto scusate molto molto tecnico e vi riporto alcuni parametri di qualità definiti nello standard ISO importantissimi e comprensibili diciamo secondo me da tutte e tutti l'accuratezza sia quella sintattica e quindi un decimale che sia un decimale con quel numero di decimali previsto per quel tipo di grandezza sia ovviamente quella semantica che insomma che ci siano pere e non mele dentro quella colonna in modo tale che quel dato possa essere correttamente interpretato attuale ne abbiamo parlato mille volte ma ve lo cito di nuovo perché è uno dei parametri ISO della qualità quindi il dato è quello giusto nel tempo ha senso per rappresentare il fenomeno che devo interpretare completo il dato è esaustivo per tutti i suoi valori e quindi sto rappresentando un fenomeno che ha a che fare con il paese soltanto per alcune ragioni e non per altre sto pensando a un fenomeno che è diverso per genere e io in realtà schiaccio tutto su un unico genere come senza tenere conto di questa differenza quindi sto facendo un'aggregazione che non mi consente di descrivere correttamente un fenomeno queste caratteristiche di completezza chiaramente hanno un impatto su tutte e quattro gli obiettivi fondamentali di accessibilità interoperabilità riutilizzabilità e trovabilità dei dati la disponibilità è un altro dei parametri ISO ne abbiamo già parlato è uno dei diritti sanciti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali consente di valutare anche la capacità del dato di essere trasportato da diversi sistemi in un formato strutturato da una macchina ma chiaramente anche dobbiamo pensare ai temi anche dell'accessibilità avere un dato descritto anche in maniera strutturata leggibile da una macchina consente di superare anche barriere per chi ha dei problemi di accessibilità come dire fisica rispetto a dei dati pensiamo a chi vede male diciamo la possibilità di avere tradotto quel dato quella descrizione in un testo da ascoltare è un superamento interessante ed è un elemento di qualità molto molto interessante il dato è coerente rispetto ai suoi attributi nel contesto d'uso magari di quell'amministrazione che ne è titolare il dato è conforme cioè quel dato consente di valutare se aderisce a degli standard a delle convenzioni a dei a dei regolamenti quindi sono elementi che ritroviamo un po' in tutti i modi di descrivere la qualità sia in quelli un po' più informali quelli un po' un po' diciamo di principi di fondo sia negli standard che definiscono che cos'è la qualità e quindi in qualche modo visto che uno standard è misurabile una delle raccomandazioni delle linee guida in discussione in questo momento dice proprio questo si raccomanda di garantire per tutti i dati in generale per quelli resi disponibili per il riutilizzo in particolare quindi in qualche modo qui vi si sta dicendo che queste raccomandazioni valgono sia per il portale open data ma teoricamente per tutti i dati che pubblicate online quindi è una raccomandazione il rispetto almeno delle quattro caratteristiche di qualità dei dati delle quindici previste dallo standard che sono veramente tante e quelle tenute in alta attenzione sono accuratezza coerenza completezza e attualità che sono poi in qualche modo misurabili cioè voi teoricamente in un mondo ideale cioè appena maturate sempre di più nel processo di pubblicazione di dati aperti iniziatelo a pensare da subito arrivateci col tempo richiesto potrete misurare la qualità del prodotto che state pubblicando perché ad esempio potreste in termini di completezza verificare in maniera automatica la percentuale di valori nulli quindi dei celle vuote rispetto al numero totale dei valori attesi quindi è stato definito uno schema completo il numero di dati elementari associati a un valore non nullo quanti valori mancanti c'ho per riga in quella riga in cui c'è definito il signore Andrea Borruso 10 colonne e nel riempio soltanto uno c'ho scritto soltanto Andrea questa è un'altra verifica automatica rispetto alla completezza rispetto a uno degli standard quindi che si può fare e quante righe ho raccolto cioè io sto facendo un'analisi sulle scuole della città che ne ha mille scuole e ho raccolto 10 record questo è un po' più complesso bisogna conoscere il dominio ma ovviamente anche quella è completezza l'accuratezza è un altro standard misurabile potrei fare in una colonna in cui sono previsti soltanto nomi di persone delle analisi automatiche in cui posso scoprire quante volte in percentuale ho degli errori sintattici merio invece che mario abbastanza semplice un po' più complesso quello di tipo semantico ho messo pere per mele qui l'esempio è un po' più difficile da mappare ma insomma pere per mele in una colonna che dovrebbe vedere soltanto pere è un caso mappabile la coerenza è un altro misura che potete fare nella qualità soprattutto se il dato è ben progettato e ben descritto posso avere nel mio dataset sugli utenti che hanno la patente B minorenni e quindi avere una data di nascita nella colonna data di nascita una data che esprime un'età minore di 18 anni posso fare il rapporto tra il numero di attributi dei dati in cui i valori sono semanticamente corretti rispetto al numero complessivo quindi non è tutto così facile ma è standardizzato con i trovate della documentazione ed è fattibile sapete che certi dati hanno una periodicità di aggiornamento nota facilissimo da verificare e quante volte questo non è non è mappato potreste eventualmente fare una media di mappatura della periodicità rispettata tai di data dati ordinati è un altro tema chiave che trovate in tutte le guide nazionali e internazionali sulla qualità dei dati ordinati non pensatelo nel senso in ordine alfabetico ma diciamo in buon ordine quando diciamo la stanza è ordinata con gli oggetti messi quello sul comodino quello nel cassetto quello sul tavolo quindi l'ordine da questo punto di vista è un buon ordine riporto una slide in lingua inglese semplicemente perché è fatta molto bene ve la commento in italiano tali data dice tre punti che vi possono sembrare le banalità ora in un esempio vi farò vedere che non è così banale lui dice che un dato ordinato in buon ordine prevede che ogni colonna sia una variabile quindi il nome di il nome di una specie animale il colore di una specie animale ogni osservazione è una riga e ogni cella è una singola misura voi direte ma sono sempre così i dati? no anche nei portali open data alle volte abbiamo elementi come questi che trovate sulla parte sinistra nella parte sinistra voi trovate che è una certa misura facciamo finta che sia il numero di persone che hanno vinto in un anno un premio alla lotteria nel 1990 in Francia sono state 250 e in Spagna sono state 320 e voi trovate che Francia e Spagna sono due colonne questo è molto comodo per noi umani che leggiamo di fatti questa sembra una cosiddetta tabella pivot in cui avete fatto un report pensato per essere letto a schermo per fare un pdf in un comunicato stampa molto leggibile quindi subito incrocio anno e valore e leggo quel dato la modalità si chiama modalità di ordine wide cioè tutto espresso un po' in larghezza quindi immaginatevi tutti gli stati del mondo quindi quante colonne in larghezza diventerebbero diverse decine la modalità consigliata è quella di utilizzare il formato lungo il formato long in cui appunto come vi dicevo nella slide precedente ogni variabile è una colonna ma siccome lo stato è una variabile lo metto in colonna e questa stessa rappresentazione un po' meno leggibile quindi un po' devo saltare con gli occhi a farmi un po' di analisi però questa per una macchina per un calcolatore è molto più comodo perché si può leggere in una sola colonna fare dei calcoli medi globali per gruppi di nazioni che sono soltanto di un continente e di un altro è un po' tra virgolette un tecnicismo guardate che per noi cose di questo tipo sono molto importanti c'è una checklist nel volume che le linee guida nazionali in consultazione citano nel senso che le linee guida citano questo bellissimo documento che si chiama Data Quality Guidelines che è prodotto è una pubblicazione del 2021 del publication office del portale dati europeo e trovate moltissime delle cose che a cui ho accennato oggi quindi trovate ad esempio il check di qualità sul numero di valori nulli che ha a che fare con i dati che si può esprimere come calcolo in percentuale e che ha come vedete nella slide un ranking cioè questo controllo è considerato un controllo di qualità con un ranking di tipo medio quindi è un controllo diciamo interessante se avete assegnato o no parole chiave a dataset se gli avete assegnato o no categorie ed è sempre molto interessante perché è un documento che vi consente di implementare questi controlli vi dà dei suggerimenti vi dice se sono controlli che hanno a che fare con i dati stessi per esempio o con i metadati quindi se ha a che fare con una descrizione di qualità o con dei dati di qualità vi suggerisce il tipo di calcolo cioè vi dice per esempio se è un calcolo che viene fatto in maniera in percentuale come nel caso che vi ho fatto prima dei valori nulli o se è un tipo di calcolo che è di tipo binario cioè verifica se la condizione esiste o non esiste se è vero o se è falso e l'altra cosa interessante è che vi suggerisce dei portali nazionali e internazionali in cui viene fatto o meno questo tipo di verifica quindi se vi sembra come dire un check di qualità importante volete trovare ispirazione sulla modalità con cui viene resa pubblica questa verifica trovate anche le sigle di alcuni portali in cui questo controllo viene fatta noterete che alcune cose banali ripeto voi mi direte ma com'è possibile che noi dobbiamo fare il controllo che un dataset è connesso a un URL e che quell'URL è accessibile nella nella prima slide sui controlli che c'è a schermo la rilevanza alta quindi in qualche modo come dire un controllo di tipo super raccomandato è quello che esista un URL per quel dataset e che quell'URL sia accessibile se avete un portale fatto con Sican fatto con Socrata fatto con uno dei tanti motori di pubblicazione dati aperti in qualche modo è scontato che l'URL esiste però non datelo così tanto che è scontato che ad esempio quell'URL sia poi accessibile nel tempo e altra pagina che vi ho messo non ve la leggo tutte per scelta ma chiaramente uno dei controlli che si può mettere nei check è che i vostri metadati siano conformi allo standard di descrizione del catalogo ovviamente l'ho citato innevolta è un controllo ovvio in qualche modo se avete un portale open data di quelli con un motore standard l'avete garantito in qualche modo nel prezzo tra virgolette cioè esce così voi dovrete avere la cura di inserire i campi obbligatori previsti un esempio che non vi ho fatto con rilevanza bassa ma è un esempio carino la conformità di un indirizzo email nei metadati del catalogo dati un elemento che si inserisce è l'email del referente del dato l'ideale sarebbe avere un controllo automatico che quello sia un indirizzo scritto per come è corretto scrivere un indirizzo email senza ad esempio dimenticarsi la chiocciola verificare che quel dato utilizzi appunto o uno schema o un vocabolario controllato che la licenza sia definita ovviamente la licenza definita vi ho un po' martellato su questo tema è considerato in questa slide un elemento di interesse di check di qualità molto molto alto le informazioni sul una cosa che non vi ho detto nel descrivervi queste slide queste esistono soltanto in lingua inglese se non ho sbaglio però in inglese molto tecnico molto leggibile è che nelle prime due colonne vi viene sottolineato qual è il tipo di grandezza il tipo di dimensione che andiamo a mappare in termini di qualità e quindi la prima colonna è la colonna di tipo fair le prime slide che vi ho mostrato e questi controlli di questa slide che sono alcuni dei tanti che si possono fare sono legati per esempio alla riusabilità figlia della riusibilità ci sono degli indicatori anche più di uno e quindi uno di questi è l'attualità cioè se il dato è consistente dal punto di vista temporale o la consistenza quindi se il dato ha una sua consistenza e l'accuratezza e la rilevanza e vado avanti perché insomma queste cose le abbiamo descritte questo è un volume bellissimo ho messo i link e trovate i link anche nella linea guida open data in discussione in queste settimane e la un paio di identificatori che non ho citato la credibilità in qualche modo cioè se quel dato pubblicato non è associato un titolare dei dati a un indirizzo o email a un punto di contatto a chi l'ha creato allora posto che ovviamente negli standard di descrizione dei dataset tutta questa roba è obbligatoria alle volte la pubblica amministrazione pubblica dati aperti anche non in portali open data e delle volte non pubblica quindi un catalogo che rispetta il DICAT PIT l'ideale è sempre raccomandatissimo finire nel catalogo ovviamente ma in ogni caso la credibilità di quello che pubblicate dipende in qualche modo ci metto la prova trasparenza insomma sul fatto di rendere evidente chi è il titolare di quel dato un punto di contatto ovviamente bisogna garantire di rispondere ad eventuali mail richieste rispetto al punto di contatto pubblicato esempi allora vi rifaccio un esempio che vi ho già fatto provando un po' a 360 gradi a vedere quali sono gli effetti sulla sulla qualità oggi faccio proprio due esempi molto molto semplici nel prossimo incontro in cui faremo una carrellata un po' una panoramica di alcuni casi d'uso sia della pubblica amministrazione sia di riuso dei dati che la pubblica amministrazione pubblica vi farò altri esempi secondo me di qualità interessante allora questi sono sempre i dati della protezione civile sul covid noterete una cura complessiva che non vi ho citato sino adesso ma la trovo molto interessante cioè voi non soltanto vi viene detto guardate i dati sulle province le trovate nella directory province perché in questo caso la protezione civile non sta usando un catalogo dati standard ora vi farò vedere che utilizza anche lui uno standard ma non sta utilizzando diciamo un catalogo utilizza in qualche modo come se fossero soltanto delle cartelle quindi vi dice qual è la cartella e quindi molto comodo in centinaia di cartelle io so che è quella che ha quel nome e poi mi dice come si chiamano i file perché vengono pubblicati a file e mi dice guarda i dati provinciali hanno questo nome il prefisso è il dpc dipartimento protezione civile covid-19 ita province e poi yyy mm dd e quindi anno 4 cifre mese 2 cifre giorno 2 cifre è lo standard ISO di cui abbiamo parlato che è molto comodo utilizzare anche nella pubblicazione a file qualora il file vari giornalmente ad esempio e il nome ad esempio poi è 2020 0224 punto csv csv è il formato uno dei formati in cui hanno pubblicato esiste la cosa bella che esiste la struttura del file giornaliero quindi io ti sto informando sul fatto che c'è un file giornaliero ma c'è anche un file complessivo quindi se tu vuoi il cosiddetto dato in blocco dato in bulk lo trovi nella cartella di provincia e si chiama in questo modo e poi è molto comodo questa è una richiesta che abbiamo fatto noi se non sbaglio l'ho fatta io proprio forse ho fatto la slide in cui vi chiedevo protezione civile facciamo una cosa oltre a pubblicare ogni file con la data create un file con un solo nome che contiene sempre gli ultimi valori quindi l'ultimo giorno questo in modo tale non dover fare io un piccolo algoritmo algoritmo che ricava è facile sarebbe stato facile che ricava l'ultimo giorno e quindi visto che i dati sono pubblicati più o meno alle 5 del pomeriggio adesso sono le 11 del 23 giugno io automaticamente potrei dedurre che a quest'ora l'ultimo dato è quello che nel nome abbia scritto 2022 0622 quindi quello di ieri e invece di fare tutto questo gli abbiamo chiesto sentite ma pensateci voi l'ultimo dato rendetelo disponibile con un puntatore univoco universale che non cambia e quindi noi che facciamo analisi in cui vogliamo ogni giorno mostrare se ci sono variazioni possiamo puntare direttamente con un solo url agli ultimi dati e poi in basso trovate delle note utili perché con la complessità delle regioni di statuto speciale le province autonome eccetera eccetera la codifica territoriale non è sempre particolarmente human readable molto facilmente descrivibile e allora c'è anche una nota pensata per essere retta in questo caso dall'uomo che vi aiuta nel leggere i dati di aggregazione scusate scusate se ne sta andando la voce territoriale ovviamente hanno descritto la licenza è un campo obbligatorio di qualità dei dati un'obbligatorietà della licenza in termini di qualità è mettere il link alla licenza non basta scrivere che non ci ci vai ci vuole il link con la licenza perché io che non capisco niente di licenze la devo capire che vuol dire sta licenza adesso noi sappiamo tutti che CC BY 4 è la licenza consigliata in Italia per pubblicare dati la trovate fortemente raccomandata nelle linee guida ultime in consultazione ricordiamoci non mi ricordo se l'ho sottolineato è bene che sia la versione 4 della licenza CC BY che è pensata per i dati la licenza CC BY 3 è ancora diffusa in alcuni portali ma non è quella giusta quella giusta è la 4 quindi se potete fate la procedura adeguata interna per passare in procedura sia formale che tecnologica per cambiare questo metadato la cosa bellina che hanno fatto in protezione civile è che un portale un sito web diciamo che pubblica file quindi non è tecnicamente motore per portali open data ha descritto con dei metadati la parte in termini geografici perché questi dati covid sono dati territoriali ha utilizzato le specifiche tecniche per essere indicizzati nel repertorio nazionale dei dati territoriali c'è un documento che descrive come fare è un file xml che descrive dal punto di vista anche geografico quei dati e questo ha comportato che una volta che il dato è descritto secondo uno standard di un catalogo che indicizza tutti i dataset italiani descritti secondo quello standard questo dato è più trovabile perché è stato prima descritto secondo questo standard e dopo che è stato descritto il repertorio nazionale in un click tra virgolette l'ha potuto indicizzare e portarselo dentro hanno definito la categoria del dataset quindi è un'altra raccomandazione quindi come vedete in questo perché vi faccio vedere la protezione civile nonostante non sia un portale open data perché tutto sommato è un esempio che fa dal riferimento per tante cose che hanno realizzato in termini di qualità e quindi definiscono lo standard ISO della categoria è una raccomandazione di tutta la qualità salute ovviamente e vabbè da chi sono forniti i dati quindi il titolare del dato è da chi dipende l'elaborazione e la gestione del dato in questa schermata poco leggibile trovate i file XML che descrivono i metadati secondo lo standard utile per finire nel repertorio nazionale dei dati territoriali sono file XML uno per ogni dataset di riferimento il file XML ha più o meno questa questa forma c'è la la data il titolo del del dataset la tipologia insomma una descrizione secondo lo standard questo ha consentito una aumentata trovabilità di un dato così importante in un portale nazionale di riferimento se cercate dati territoriali quello è un portale dove andare a fare ricerche sia in termini visuali sia in termini automatici perché sono esposti anche servizi di ricerca per cui geodaticov.it è pronto a fare questo tipo di ricerche tutta questa descrizione è accascata finendo nel repertorio nazionale dei dati territoriali quindi se finisci nell'RNVT finisci in automatico nel portale nazionale dei dati aperti quindi è sempre più rintracciabile soltanto grazie al fatto che ho utilizzato dei termini di qualità in questo caso dei termini descrittivi standard a cascata ottengo un'enorme trovabilità rintracciabilità da chiunque nel mondo cerchi quel tipo di dati a cascata finisco nel portale europeo dei dati aperti noterete che il dato è mappato dal punto di vista anche territoriale è stato fatto il bounding box per cui rispetto al tema salute perché è classificato come salute rispetto ai tag c'è il tag covid-19 io posso fare nel portale europeo una ricerca che tenga conto anche dello spazio perché ci sono delle coordinate non c'è il poligono c'è il riquadro che mappa l'Italia e in ultimo finisco nel portale dati di google dedicato che si chiama google dataset search quindi se cercate questo portale si chiama google dataset search in cui trovate cercando covid-19 Italia monitoraggio situazione che era il titolo del dataset trovate diverse fonti quindi lui trova tre dataset trova quelle originali pubblicate su repository github quelli su dataeuropa.it e quelle su geodati underscore collaudo .cov.it che non so se sia un sito di intermediazione di test ma la devo guardare questa cosa comunque diciamo trovate tutte le informazioni e in google dataset search potete mettere dei filtri per data d'aggiornamento per formato dati per diritti per licenze sui dati e per argomento tutto questo esiste perché è stato fatto un lavoro di qualità e di descrizione dei dati mi prendo qualche minuto sto finendo un altro esempio che vi faccio è quello della certificazione verde covid non mi odiate se parlo di questo tema sempre ma ripeto siccome è stato un tema che ha fatto da volano anche in termini di esiti rispetto ad alcuni lavori sui dati ha prodotto delle cose che prima del covid in qualche modo non c'erano quindi diciamo quasi grazie in questo caso e questo è la dashboard sul vecchio diciamo vecchio perché insomma il green pass ha fatto il suo tempo dashboard ricordatevi sempre che se fate la dashboard se siete pubblica amministrazione mettete da qualche parte anche i dati che alimentano la dashboard quindi fate la dashboard perché dovete rendere leggibile quel fenomeno a chiunque l'importante è mettere anche i dati grezzi che l'alimentano da qualche parte un link una nota un ritmi un portale dove inserirle ma perché ve lo faccio vedere perché e qui ne sono orgoglioso trovate la mia faccina il Ministero della Salute ha descritto la struttura dati in quella modalità che vi ho fatto vedere già altre volte si chiama frictionless in cui avete per ogni campo nome campo tipo campo se è richiesto se ha un valore di massimo e questa è una bella scelta in Italia quasi mai si descrive la struttura dei dati quasi sempre si descrive il livello più alto diciamo il dataset il raccoglitore l'indice quasi mai si descrive poi lo schema dati e questo è stato fatto ed è un grandissimo valore aggiunto finisco con degli strumenti magari ne parliamo nella prossima mi prendo proprio due minuti due e ne parliamo la prossima volta quali sono gli strumenti per fare dati aperti è un po' come le macchine fotografiche nel senso che ognuno potrà scegliere quella che preferisce rispetto al proprio dominio di conoscenza al proprio sistema operativo alle proprie pratiche a quello che c'è in ufficio però diciamo che per guardare dati aperti almeno vi serve un editor di testo uno buono perché la gran parte dei dati oggi sono ancora per la gran parte testo alcuni casi no però nella grandissima parte sono testo un foglio elettronico diciamo occhio nel senso che i dati di qualità stanno aumentando un dato di qualità sono dati che hanno tanti record i fogli elettronici appena saliamo sopra un certo numero vanno in palla alcuni hanno proprio dei limiti al milione di record come ordine di grandezza il milione di record oggi capita di superarlo è raro ma insomma capita però un foglio elettronico mettetelo nella vostra come dire nei cacciabite di base è il browser il browser perché ai dati nella stragrandissima parte dei casi accedo da internet e poi questi sono degli esempi sono milioni gli strumenti che potete utilizzare open refine uno strumento per fare open source per fare pulizia bonifica arricchimento dei dati pieno di tutorial pieno di guide molto bello automatizzabile può diventare un pezzo della pipeline il mondo Linux ha delle utility nate per lavorare su string di testo quindi sono strumenti eccezionali per estrarre 5 righe in maniera easy da file da milioni o miliardi di righe non vale sempre ma è un punto di partenza molto interessante gli strumenti per chi lavora con i dati geografici vi cito due open source molto importanti che sono QGIS per chi lavora in termini visuali di interfaccia a schermo con i dati geografici e GIDALLOGR che è uno strumento un po' più tecnico per lavorare diciamo dietro le quinte i dati spaziali poi chiaramente i dati si elaborano a un certo punto non più col foglio elettronico ma con dei linguaggi Python ed R sono due due linguaggi tipici ce n'è altri altre decine ma insomma due linguaggi tipici di cui trovate ancora una volta corsi libri tutorial li cito perché sono molto diffusi e poi vi cito gli strumenti frictionless perché li ho citati molto spesso ho finito ci mancherebbe altro anzi grazie mille a te Andrea semplicemente qualche secondo per darvi l'appuntamento per il prossimo webinar per il prossimo incontro che non sarà la prossima settimana sarà la successiva giovedì 7 luglio sempre alle 9.30 sempre con Andrea Borruso per chiudere il nostro ciclo formativo alla didattica andare a parlare di dati aperti le buone pratiche di pubblicazione e riuso buona giornata a tutti quanti e grazie mille ancora grazie mille